Scopo, Michael, 94941 Perché ci tieni tanto a vedere Barrios? Perché è mio fratello Io comunque sono Michael Schofield, ho letto la sua scheda Lei ce l'ha o no? Dottoressa Tancredi, basta Sei tu il cambiamento che porresti per il mondo Che c'è? Era la mia frase preferita al liceo Davvero? Pensavo fosse un progetto di gamba Benvenuto a Fox River In pratica abbiamo fatto tutto noi Dai progetti ai disegni alla missione Hai visto le planimetrie? Molto meglio Le ho tutte suddite Grazie a tutti